Salve e ben arrivati a tutti, io sono Eleonora Marzella e nella vita mi occupo di libri. Dal 1 gennaio 2023 è nata Bistrong Edizioni, una casa editrice molto molto impegnata nel sociale e proprio attraverso questo video vi stiamo mostrando la prima t-shirt che sarà in vendita dal prossimo mese dove la dicitura è Bistrong, Bwomen perché abbiamo come obiettivo aiutare l'associazione di Anna Maria Marino anche essa impegnata contro la violenza sulle donne e soprattutto nel sociale. Quindi per tutti coloro che stanno vedendo questo video e sono interessati a far parte di Bistrong Project potete contattarci su bistrongedizioni.it Ciao!